il nostro giro tra le varie realtà calcistiche un modo per tornare anche i fanciulli e pertanto venite con noi a scoprire il borgo pace giuventina lecce andiamo siamo oggi con giulio quarta presidente borgo pace da quest'anno anche giuventina lecce insieme a mister sensibile poi andremo a ascoltare raccontiamo un po la vostra realtà borgo pace esiste dal 94 poi il 2002 diventava nuova borgo pace dal 2007 mio padre mi ha passato le consegne e ho preso la gestione della squadra presidente giovanissimo diciamo l'età 29 anni quindi le ambizioni quali sono le ambizioni e quelle di stare in mezzo ai bambini più di quello magari avere la soddisfazione che i bambini da qui escono con delle nozioni maggiori rispetto a quelle con cui sono arrivati fa tempo di ora abbiamo un allenamento in corso quindi cosa diciamo di questi ragazzi i ragazzi stanno crescendo come vedete il gruppo aumenta sempre di più con l'apporto adesso ragazzi che categoria sono questi sono pulcini ed esordienti 2005 2006 2004 come si svolge più o meno l'attività qui che poi tra l'altro abbiamo visto anche un parco pubblico per lo meno parco pubblico aperto tutti i giorni nel pomeriggio e loro fanno allenamento lunedì mercoledì e venerdì quindi l'attività abbastanza intensa quindi via della repubblica mentre loro si allenano i genitori i genitori portano i bambini piccoli le sorelline passano il tempo nel parco qualcuno è tentato a salire sull'altalena qualche genitore ogni tanto succede spero spero di no vabbè a noi è successo come avete visto da quest'anno c'è stata questa unione di intensi con la giuventina e ci ha portato innanzitutto a dei nomi artisonanti come quello di mister sensibile e tutto lo staff che gravita intorno a lui e di conseguenza oltre avere un beneficio del numero abbiamo avuto anche un aumento del dell'apporto tecnico da parte dei tecnici appunto quindi un'unione di forza proprio per crescere insieme sì una cosa rara anche da queste parti fare sistema ecco siamo riusciti perché a parte ci conosciamo da anni nell'ambiente del calcio chi non può conosce mister sensibile quando c'è stata questa occasione per noi è stata una manna dal cielo non potevamo non prendere al volo a questo punto andiamo a sentire mister sensibile prima di parlare con franco cannone del del di questa partnership fra giuventina lecce e borgo pace insieme anche dal sensibile facciamo un salto a una data 14 novembre 1965 cosa le viene in mente una cosa bellissima il mio debutto in serie a bologna e quindi sono la maglia della roma maglia della roma e sono tappe indimenticabili e quindi è una cosa che mi inorgoglisce 50 anni fa come siamo giovani 50 anni 50 anni fa sì calcio è cambiato tantissimo in tutte le sue sfaccettature è cambiato tantissimo tantissimo quindi un calcio che noi e cerchiamo oggi di dare con la nostra vita vissuta con l'esperienza di tutto un settore giovanile e di tutte le altre esperienze anche sia dirette che visive e le portiamo qua su questi campi per i nostri bambini noi abbiamo un serbatoio naturale eccezionale e quindi dobbiamo insistere a lavorare su questo serbatoio su questi ragazzi che hanno temperamento hanno entusiasmo e hanno fantasia ecco noi dobbiamo aiutarli nella parte motoria chiaramente in queste fasi qua nella parte poi tecnico tattica con la crescita a tal proposito mister cannone visto che coordino un po tutti i ragazzi ma questi ragazzi si fanno guidare o un po si fanno guidare si fanno guidare si fanno diciamo sono ragazzi adesso ragazzi hanno un margine di intelligenza superiore alla media quella che era una volta perché una volta la quinta elementare adesso questi ragazzi ti seguono abbastanza ti seguono sono hanno un bagaglio tecnico già diciamo perché vedono le partite la televisione sono avvantaggiati da quando eravamo noi 50 anni fa come dice lei io anche 60 anni fa perché io sono più grande di aldo e quindi i suoi trascorsi pure ecco il suo calcio io sono stato nasco dalla proparte a lecce poi giovanissimo a 17 anni andai a novoli in quarta serie allora la quarta serie semiprofessionista poi feci due anni a novoli poi andai un anno con la paganese in serie c e un anno con la nocerina poi tornai per motivi familiari e andai a giocare vicino casa gallipoli sempre in c e poi ho fatto poggiardo sempre in quarta serie il calcio anche di quarta serie diciamo rispetto a oggi era un calcio veramente a parte era un calcio come ci si arrivava nei paesi era molto difficile era molto difficile momenti brutti non c'erano mezzi io pensi noi partivamo il ma il venerdì sera per andare in sicilia e tornavamo il martedì mattino se eravamo fortunati a traghettare perché allora col mare forza 6 7 non si traghettava come adesso quindi abbiamo veramente vissuto momenti belli e brutti diciamo brutti perché diciamo le possibilità erano allora chi giocava in serie c e come uno adesso va in nazionale perché allora non c'erano mezzi televisione giornalismo noi ci portava avanti a tilio perché noi stiamo portando un discorso proprio perché per noi è stato un padre diciamo ci ha insegnato calcio e vita è stato un maestro di vita anche se i genitori nostri ci hanno dato educazione e tutto però lui ci insegnava cose che magari a mamma e papà dicevi no sta cosa non la faccio a lui no invece lui doveva fare come diceva lui perché diceva quando ti troverai di fronte a quella cosa non dovrai essere impreparato sarai preparato e così è stato ci siamo trovati veramente tutti quanti bene tutti 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 e stiamo proseguendo questo discorso di borgo pace ventina un'unione di esperienze dopo 60 anni così ci siamo riuniti di nuovo un gruppo di amici enzo lippos antonio cannone gino quarta e compagni e stiamo portando avanti il programma che aveva diciamo ideato a tilio che è lui questo che voleva lui è quello che voleva far crescere i ragazzi giovani il suo ricordo più bello insomma lei è stato portato l'asco in serie a conosciuto boscov ebbene se ne stanno diversi perché a brindisi ma anche ma anche anche a roma so che un posto a un posto ha visto sempre tribuna sì la leggenda sì anche anche il mio debutto con il lecce fu bellissimo che fu nel 64 e salernitana lecce quello fu anche una tappa importante e poi la venne la nazionale juniores e vennero altre partite inserirci e poi fu ceduto da roma poi ho cominciato a fare sempre insieme e grazie sempre al nostro parre sportivo a tilio adamo comincia a fare il secondo insieme a mimmo renna a mimino nel lecce e si vinse il campionato poi facciamo un anno di serie b e poi andammo insieme ad ascoli e da là abbiamo cominciato poi a girovagare in tutta la penisola dovremmo fare un'intera trasmissione sull'album dei ricordi di sensibile ci sarebbero tante cose belle da raccontare e foto immagino tante foto ma la cosa più bella adesso è ritrovare in casa perché adesso poi si torna tutti a casa la nostra casa è lecce la nostra vita è lecce alla fine e trovare persone come franco che hanno una carica una passione un amore per il gioco del calcio e per insegnarlo che è una cosa veramente che sarebbe da portarla a nelle prime pagine dei grandi quotidiani perché la passione è così importante se non c'è amore non si può insegnare ai giovani assolutamente lui ce n'ha tanta va bene allora appuntamento in via della repubblica per vedere questi giovani della borgo pace e i venti insieme a questi grandi mister ci sono una foto ricordo